Le indagini dopo la segnalazione da parte dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Andrea. Era il 25 febbraio quando si presentò un uomo ferito al collo da un colpo di arma da taglio. Si salvò per miracolo ma doveva morire in un agguato teso da sua moglie e dall'amante di lei. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia. Avrebbero voluto assoldare un killer professionista. Hanno poi deciso di fare da soli. Lei 49 anni, lui 54, già finito in manette dopo che la vittima, una guardia giurata, lo aveva riconosciuto come il marito di una donna che sua moglie aveva assistito in qualità di badante. Secondo quanto accertato dall'inchiesta dalla procura di Trani, la 49enne desiderava vendicarsi dell'uomo che a suo dire le avrebbe tenuto nascosto di possedere un'importante somma di denaro costringendola a vivere distenti. Risponde di concorso intentato omicidio. La polizia l'ha incastrata attraverso intercettazioni telefoniche ambientali, analisi di materiale informatico, dichiarazioni e testimonianze.